buonasera a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video di pokemon go allora la serie non siamo non è riuscita non sono diciamo sono riusciti a continuare abbastanza perché ho avuto problemi col telefono però continueremo gli episodi in un'altra maniera allora innanzitutto faremo degli episodi che saranno dei video reaction della cattura di alcuni leggendari da parte di un mio amico quindi andiamo a vedere come cosa è successo non già nel banco partiamo con la video questo primo episodio sarà il video della cattura di 3 4 poi avremo lunga se non sbaglio e chi se lo ricorda va bene quindi partiamo io stavo cercando di schiacciare qui sul cos'è il telefono ma andiamo a vedere allora occhi di quanto è grande c'è guarda che roba lo sta sciuttando sono in si riesce a capire boh 1 2 3 4 5 6 7 allora abbiamo che dragonite è stato sciuttato da rayquaza in quanti secondi boh non lo so pochi secondi comunque abbiamo visto che rayquaza usa una mossa che è aria assalta e abbiamo scoperto che i tipi roccia non sono efficaci contro rayquaza e lo sta sciuttando guarda come lo sciutta raga è fortissimo ci credo che io non riuscire non riuscirei a prenderlo fatemi sapere nei commenti sotto se volete con un po di leggendari contro leggendari dai che lo sciotta dai che lo sciotta ciao 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 sciuttato dai manca poco metà vita e ok ora sta stanno attaccando ma quanti sono saranno in 6 in 7 allora vediamo abbiamo raidon che viene cambiato subito e c'è un chiovere c'è un chiovere c'è il tipo c'è c'è l'entrambi zio c'è il grouder chiovere c'è se si prende anche questo è il top c'è c'è lì a tutti e tre se se lo prende c'è lì a tutti e tre è stato sciuttato chiogra va bene di brutto anche sì quanto è forte ragazzi all'istagione gli sta massacrando uno dietro l'altro guarda quanto li toglie zio guarda quanto li toglie loro non tolgono sono in 7 e non gli stanno togliendo niente lui con un colpo e massacra uno dai dai ce l'ha fatta ok e quella che roba è che è stato imbevuto nel margine del sciapone marciglia e barchini essere stretto se ristretto non repellente in preparazione polvere stelle tanti tanti punti abbiamo mannaggia squadra rossa prevalenza quindi abbiamo minor ball quindi facciamo che usiamo una bacca dorata e usiamo le premier ball che ci hanno dato vediamo allora primo tiro con palla curva e nessun tiro un tiro discreto ma vediamo non penso che vanno subito primo colpo dubito però ha fatto due zio c'è andato vicino c'è andato veramente vicino ce ne abbiamo 11 di bolle quindi mai alle spinte ah andiamo a giocare a palla canestra ottimo tiro raga vediamo qua abbiamo altre probabilità vediamo 12 preso 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 non ci credo 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 non è eccellente però c'è io se c'è uno che fa schifo me lo tengo lo stesso non è che sto lì non c'è uno che fa schifo ok abbiamo visto questo era il video come abbiamo visto è facile da prendere facile da prendere sì ma siamo in due con un pokemon di merda lo possiamo prendere siamo in due con un pokemon di merda ce lo possiamo fare più o meno il pokemon fort è 1049 cazzo vuoi prendere tu weedle vuoi prendere tu solo quello prendiamo solo weedle forse neanche quindi un weedle gigante dopo era un weedle ah il lombrile il cornuto e le scacce come si è ridotto comunque allora veramente non me l'aspettavo che lo prendesse perché sono vero ho sentito dire che sono veramente forti i leggendari comunque se riesco io proverò a prendere facendolo anch'io adesso il gioco si vede praticamente abbiamo andiamo a se qua c'è un bel pokemon leggendario di giulio cerchiamo di cercherò di prendere un latias o un latios ancora qua ragazzi si vede che mette a fuoco la videocamera è stato se non sbaglio fatto anche un aggiornamento da poco comunque per questo video è tutto il prossimo video forse ci sarà un combattimento con un lugia vediamo se mi arriva il video e ragazzi un saluto nel video e ciao let's get it ciao 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 ciao